ragazzi e ragazze benvenuti in questo nuovo video oggi proviamo il snack di tutto il mondo che arriva da praga dopo dopo dai eh no proviamo in tarla da chiudo come hai fatto in pratica è un bounty dentro c'è la crema al cocco ok va bene bounty di praga questo invece viene dalla slovacchia adesso l'apriamo così l'ho mangiato puoi anche parlare fai vedere anche il tuo tiralo fuori e anche questo invece per terzo viene sempre dalla slovacchia solo che questo è al latte un po' tutto è rotto io adesso posso io invece posso aprire questo io mamma invece apre questo tu lo mangi è cioccolato ripieno di latte ma c'è anche qualcosa nel latte vero? si ci sono delle mani anche il caffè anche questo qua è il caffè è il mio no questo lo mangi com'è questo cioccolato slovacco? no no beh guarda se le vuole Manuel Gabriele questo qua non lo può assaggiare non lo so non lo so cos'è? manca mi fai manca è della Nestlé aspettate che vi faccio vedere è uscito a mangiare queste barrette vengono dalla Repubblica Ceca e sono senza glutine adesso le possiamo mangiare? e sono di tre gusti diversi dai apritele so che le può assaggiare anche Gabriele queste ma che gusti sono? è una delle poche cose che può assaggiare dategliene una intera si loro ne prendono solo un pezzo di pietro dai dategliene una intera Gabriele ma almeno ce la fai vedere aprila l'apro così si ma ecco e poi la fai vedere come è dentro così è dentro non riesco a capire dai poi me lo dai ok sembra tipo boh non lo so ehi la mia è molto diversa ha altri colori la fai vedere 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 ma è commestibile questa ma a me sembra i salsicciotti per i cani dai 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 ehi aspetta voglio aprire i due in due come ah dentro non è normale ci fai vedere com'è per favore anche la tua apri dentro si ma ragazzi miei dovete dividerla in tre me la passi Giorgia ah quella di Gabriele invece che ha mangiato direttamente lui ehm così due colori come quell'altra però ricoperta di cioccolato no Gabri te ne da un altro di pezzo tu ce l'hai cavuto no senti non c'è arriva no il cocco quello che te ne togli è buono eh ma ti la lì sul piatto e poi qualcuno la mangerà non può comprare cosa bisogna mangiare ecco arrivati eh c'è una borretta che a me non piaceva adesso possiamo prendere qualcos'altro mamma adesso assaggiamo queste due che vengono dalla che vengono dalla slovaccia e sono in due gusti differenti uno questa c'è dentro le nocciole e invece quell'altra è al pistacchio adesso adesso le apriamo per mangiarle no c'è il cioccolato fondente niente niente cosa guardate c'è il cioccolato fondente guarda che anche quello al latte è marrone eh quello bianco è bianco vediamo qua dentro com'è uuuuh 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 si ecco è un Twix eh ma quello deve essere buono uuuuh uuuuh e questo qua anche no è sempre come il mars però la crema è al pistacchio prego signore uuuuh 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 vai benedee tutto tuo mangiatelo a te cioccolato fondente non è vero dai dividetevelo dai se non vi piace lo mettete nel piatto e poi arriverà Manuel che spazzolerà via tutto vabbè è buono ma Sabrina non piace il cioccolato e quindi è per quello che non non c'è pane no no lascia male qualcosa mangiamo questi che sono della anutcia che vengono dalla Svizzera no Germania saranno parenti con la nutella perché sono della Ferrero ci scoccio sopra no anuta adesso parte ehi le voglio aprire io dai c'è già aperto wow ce ne sono cento ce ne sono cento una mamma una mamma quella di lei non è senza glutine a te rientrare quei due io non ho lasciato una a Manuel guarda da qua oh ce l'ho fatta anch'io ce l'ho fatta lo prende ma magari però non ho sentito un po' per me sono tipo come quelli normali mamma me la ferma lo prende lo prende lo prende per dentro la confezione dentro non c'è un tello c'è un colaggio come si dice quella è la crema che tipo c'è mezzo all'oreo solamente che a mano ci dovrebbero essere anche le noccioline nella crema lena ti ho ci sono le noccioline guarda le noccioline non ti ho mandato tutto tu non basta le facciamo vedere poi ci sono queste briochine della Caruzzo che vengono dalla Slovena e sono al cioccolato e poi invece qui dentro c'è la crema del scarpone e poi i lamponi e poi invece quella lì che c'è dentro e invece lì dentro c'è la crema del yogurt e le fragole ma perché hai venuto di dare quella al cioccolato? no, ma è poca, già uffa la scopri non mi gustano proprio per me è buonissima non mi gustano sembra l'integrale ma come sono i denti? dall'odore sembrano dall'odore sembrano al sasamante di alba ma poi già più dentro sono così cioè la crema quasi non si vede è un po' qua hanno un... il gusto non è male non è male cioè l'odore volevo dire niente gusto adesso proviamo questi biscotti al caffè che vengono dalla Slovacchia e poi anche questa qua che ha la bananitos che viene sempre dalla Slovacchia Svezia questo invece viene dalla Slovacchia no, dalla Svezia e basta Svezia dai apriteli, su sono enormi quegli biscotti sono giganti sono due insieme si, ma sono giganti guarda no, io no divideteli prendetene un pezzetto per uno no, io no io no a me non piace solo lì è banana ricoperta di cioccolato si, ho capito oh no, cioè è la banana a puzza puzza no, veramente ma non c'è no, non c'è di banana a puzza di banana si è esagerata comunque si dice odora ve la faccio vedere è così dentro faccattino che è tipo la polpa di banana fatta tipo bounty come la polpa del cocco però di banana e poi fuori c'è il cioccolato al caravello dentro il caravello un pezzettino nonco lì vuoi dentro il caravello c'è il cioccolato con dentro è buono mamma non ride questo no, mia mamma gliel'ha già dato ma è andato non mangiartelo tutto adesso perché vi fa male quella lì mangia vuole mandarsi la carta direttamente è buono ti piace? non è malvallo questo qui questo? è buono è buono anche io lo voglio cambiare già dalla cosa gravi dalla tutta l'adone aspetta vai un pezzettino questo qua lo lascio a mano ho detto che è già aperto perché dovevo comprare il videoculato però no mettilo lì dentro io non lo voglio vabbè adesso mangiamo questi che vengono dalla Repubblica Ceca e che cos'è? uno zucchero è vero sono cookie batta adesso apriamo ecco è di due colori facciamolo vedere ragazzi buono tenete grazie 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 altissimo scegliamo la zucchera è buonissimo è come la zucchera vera normale è sì è vero è bilato così se la mamma non ce lo fa comprare quando andiamo alle giocce tanto ce l'abbiamo non lo potete mangiare tutto veramente su quali sono state di abita 200.000 un pezzo un pezzo un pezzo e poi boh non è che cambia è da quello lì che c'era di porto anche non c'è bontà secondo me può finire dall'altra parte del mondo sempre qua adesso possiamo prima le bibite vorrete assaggiare te 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 io questa io questa no io voglio questa ma questo tipo la nuova tipo tipo sì secondo me sì allora fatevi vedere queste due bevande vediamo da dove vengono unicef unicef kingdom united kingdom united kingdom non lo so unicef regno unito united kingdom non mi veniva va bene questo qua invece viene dal regno unito no mamma united kingdom regno unito in inghilterra sì volevo dirlo in inghilterra papà united kingdom regno unito sì ma come sono brava regno unito ma mamma ma secondo me questo qui sta solamente di cioccolato questa non ho capito da dove viene adesso ve la faccio vedere tanto lo stai facendo dentro se poi lo trovo tenta perché lo dovesse poi lo trovo ve lo lascio scritto in sopra adesso io voglio aprire voglio aprire dove è che veniva si dà noi pettino non è mio nito è questo qui niente qui potrà pure qualcosa lì o noi sono sono andati di presenza ti dobbiamo tirare sulla lingua ma te sono di presenza e mangi fammi assaggiare ho me lo giuro possiamo prendere dei bicchieri ok l'apro io l'apro io oh che buon odore oh vedo il cioccolato c'è dentro il cioccolato bisogna prendere è lo stesso odore della morte ma buonissimo c'è questo papà senti è questo che si deve aprire è la torta ma paura dovete prendere c'è in pratica questo qui è tipo la mamma ma guarda questo qui è tipo l'acqua più o meno l'odore è proprio quello degli M&M's qua è mamma sto qua guarda il mio non ho un bicchiere però perché come si fa già adesso lo metto io te lo metto io non 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 te lo metto io te lo metto io non te lo metto io non funziona io quello io quello non lo metto Non puoi tirare Non puoi tirare Non te lo mettere due chili Te l'abbiamo detto Questo cuore è bello Mi sta gaslando Questo qui non si riesce a levare il tappino Questo qui nero è durissimo Vediamo se il marito ha la forza brutta Mi sta venendo tutta calzata Mi sembra di essere bruttissimo Non è sgarevato? Finito Non avete lasciato neanche un po' a Manuel? No io l'ho lasciata Manuel vuoi venire a vedere la bevanda Mi farà dove essere tutta mia Non mangio un cazzo d'altro Vuoi dire ancora qualche parolaccia? Bestegna da che ci sei Non lo dire Che vuoi venire a vedere? Già ne essuccio ancora poco Ma lo lasciamo a papà a quello Guarda che buce? Mi lascio tuttanto 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 Buonissimo È buonissimo Guarda ciò con la di caraccia Guarda ciò con la di caraccia qui c'è dentro la banana e qui c'è un altro bianco fai vedere dentro fai vedere dentro questo è un po' più buona si piace? ma che col caramello non ci piace? ma cosa hai detto? non hai detto ancora del giallo? ma ha ragione, cioè è più buona di tutti è questo col caramello mamma ho capito, guarda dentro come faccio non la faccio vediamo via, vediamo cosa scegli il salsiccio no si quello così no, quello no no però guardatevi che sono più piccante no non me ne frega voglio assaggiarlo no si, avviamo con i denti si faccio così mamma anche qui non è che si può fermare con quello papà vuole assaggiarlo taglia non ci devi vedere dai la mani lei mamma va bene la bibita 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 Salato Salato assaggiamo Questi qua della Tandy Credo Ah non abbiamo guardato da dove vengono E' vero Anche questo Barilla de Tuchlami E questi Barilla Germania Quindi questi Gio E al contrario devi metterlo più giù E invece C'è quello lì Se me lo fai vedere te lo dico Natural Smoked Anche questo Dalla Germania Dai Adesso abbiamo Tutto è pure Che io dovevo dire già di salare Un po' piccantino Tanto ho detto che non mangia solo Giorgia Noi non mangiavo niente C'è un profumo di Quei salamini confezionati E poi fuori c'è un panino Ma tipo un hot dog Il profumo è fortissimo Ma non mangiavo cuota Dentro c'è Vi ho dato un piccolo pezzettino Quei salamini come come vi dicevo Quelli che Quelli che abbiamo preso Anche qui salamini piccoli Te lascia a mano E' un piccolo pezzettino E' un piccolo pezzettino Che ti sentite a girare Tieni Ma ma me li hai dato perché tu così piccolo Questo è un po' piccolo E' un po' piccolo La tua mano E' un po' piccolo E' un po' piccolo Ma dai E' un po' piccolo ce l'abbiamo anche noi in italia con in mezzo un formaggio con pomodoro e basilico credo comunque ce l'abbiamo anche noi questi sandwich fatti così solamente che qua invece di essere un cracker sembra tipo una focaccia dura però il gusto è quello lì se non mi sbaglio è della barilla quelli che che ci sono in italia adesso passiamo all'ultima cosa come maneggia siamo arrivati all'ultima cosa prima ci sono queste noccioline che non si vedono tesoro mio queste noccioline che vengono da da qualche posto ah qui c'è scritto trencina penso sia sempre in città in slovacchia puoi guardare anche queste vengono da trencini 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 invece queste vengono da serve non mi hai letto scuro qui sezze città in slovacchia e proizvodac anche lo sai probabilmente avranno allora abbiamo preso queste alla cipolla bocca queste qui a wasabi sono arachidi ricoperte di cipolla wasabi poi questi qua sono ricoperti di peperoncino questi qua sono la salsa teriyaki e poi papà sta cercando di ricopriare quelli super piccanti e poi ci sono quelli super piccanti io mamma credo di assaggiare solo questo questo qua è il wasabi si vabbè iniziamo ad assaggiare questi tanto che aspettiamo quelli lì che sta aspetta aspetta apriamone uno per volta devo prendere le forbici allora ci fai vedere quella li ecco queste qua sono quelle super piccanti allora quella è la cipolla va bene non si sa dove ma penso vengono da tutto e dove cipolla ma sono i cinesi ma i cinesi allora queste ci presentano così questa è la cipolla forza prendetene una e assaggiate e poi si vabbè e la cipolla e la cipolla e la cipolla e la cipolla buona 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 e adesso questi qua sono super piccanti tira tira mangia tutto tu queste Adesso proviamo queste al wasabi. Si presentano così. Non so come il wasabi, io quello non lo faccio. No, non la prendete, non la prendete. È piccante. Cos'è piccante? Quella al wasabi. Cos'è questo al wasabi? Sono alacchidi. Al wasabi. Ma vuoi? Fammelo assaggiare. Ma non lo dici? Mamma fammi dare una piccola ricettina. Sono piccanti. Dai adesso apriamo queste. Non sono così piccanti. Sono piccanti. Una piccola ricettina. Una piccola ricettina. Sono piccanti subito, quelle fuori. Poi dentro no. No. Poi adesso apriamo queste al chili. Vuoi dire che... E poi mangiamo questo. Ah, io voglio queste. Ah, super piccanti. Ho paura di queste. Io voglio queste. E' un piccanti diverso secondo me. E' un piccanti diverso secondo me. Dal peperoncino. Papà ti prego puoi prendere. No. E' un piccantissimo. E' un piccantissimo. E' un piccante diverso secondo me. Dal peperoncino. No. Queste si presentano così. Vabbè a vedere. Normali. Allora no. Sono solamente eh... Non sono quelle normali. Non sono quelle normali. Non sono quelle normali. Non sono quelle di casa. Oh no. Dentro hanno... Sono passate nella... Che cosa... A me mi sembra normale. Ma ti dai? No. Ci sono sopra un po' di sale. Queste. Toc. Toc. Cosa fai? C'è sopra solo un po' di sale. Quelle piccanti. Sono piccantissime. Super piccanti. Iniziamo da queste. Che sono piccanti. Che sono piccanti. Che sono un po' meno piccanti. Queste qui invece sono piccantissime. Ma per me non sono piccanti. Giorgia vuoi assaggiare quelle super piccanti? Sì. Non saranno così tanto piccanti? Si presentano così? Giorgia è alta così. Giorgia è alta così. Ammi vedere come si presentano. Si presentano molto bene. Credo che nemmeno prendo una. Fammi vedere adesso. Adesso. Non sono piccanti. Ammi. È vero? No. Sono normale. No. È una mamma. C'è tipo come gli metteteci lecceciate. adesso vediamo le ultime le ultime sono non ricoperte ma sono noccioline con sopra un po' di piccante che dice che sono piccanti assaggia prima mamma assaggia tu è certo così sono un po' piccante sono piccanti ma non troppo mamma mi dai gli altri parcia cosa dovete dire adesso? spero che questo video vi sia piaciuto se è così lasciate un like e se non siete qui al canale e ci vediamo al prossimo video 1,2,3, come on come on, come on ciao ciao ciao